Allora, siamo ancora una volta in linea diretta in questo martedì con il nostro preparatore atletico ufficiale, quello del Fizzeria Morning, Pierluigi De Pascalis, benvenuto! Buongiorno, ben ritrovato, buongiorno! Allora, vabbè, insomma, questa notizia, nel senso come introdurla, mi lascia un attimino così, ma so che ci sarà l'inghippo come sempre, viva il grasso, purché sia Bruno! Sì, è proprio così, il grasso Bruno è in qualche modo il protagonista di questi ultimi 12 mesi, perché da quando ne abbiamo rilevato la presenza, non passa il giorno che non emerga un nuovo studio assolutamente interessante sulle sue funzioni. E anche in questo caso lo studio è stato probabilmente quello più ampio in assoluto, perché ha coinvolto circa 52.000 persone che sono state sottoposte in qualche modo ad una valutazione della presenza del grasso Bruno. Purtroppo questo tipo di indagine è un'indagine un po' invasiva, nel senso che prevede l'emissione di radiazioni ed ha anche un certo costo, quindi si è stato bypassato il problema andando ad analizzare persone che per altri motivi si sono sottoposti ad una PET. E' stato scoperto che circa il 10% di loro aveva una buona percentuale di grasso Bruno e su questo 10% cosa si è notato? Che soltanto il 4% aveva per esempio il diabete contro una percentuale che era più del doppio. Ma in linea generale chiunque avesse una buona percentuale di grasso Bruno, chiunque avesse avuto questa buona percentuale, ha riscontrato una riduzione significativa in termini di ipertensione, di problemi cardiocircolatori, di insufficienza cardiaca. In qualche modo le persone con grasso Bruno si comportavano metabolicamente come le persone che possiamo dire erano normopeso. Non resta che ricordare come possiamo favorire la presenza di questo grasso Bruno e quali sono le differenze rispetto al grasso bianco, no? Certamente, il grasso Bruno lo possiamo favorire in termini di presenza, ancora una volta attraverso l'attività fisica che rilascia degli ormoni, prima fra tutti di risina, che agevola la sua presenza e agevola anche la conversione del grasso bianco in grasso Bruno. Gli effetti del grasso Bruno sembrerebbero peraltro correlati proprio alla sua capacità di utilizzare il glucosio circolante che se in eccesso può andare poi a innescare una serie di problemi a cascata. Anche l'esposizione alle temperature fredde agevola la presenza del grasso Bruno e quindi in qualche modo lo incrementa. In ultimo, ma non meno importante, ci sono delle componenti genetiche per cui ci sono delle persone che sono maggiormente predisposte ad avere una buona presenza. Però mi preme sottolineare come buona parte, ripeto, dell'efficacia metabolica poi del grasso Bruno sia riconducibile in qualche modo proprio all'utilizzo, abbiamo detto, del glucosio circolante. Ma l'attività fisica che già da sola è in grado di incrementare la presenza del grasso Bruno è anche uno degli strumenti degli stratagemi più efficaci poi per indurre il consumo di glucosio, di tutti quanti i substrati energetici, ma il glucosio in particolar modo. Per cui è importante certamente allenarsi, certamente favorire la presenza del grasso Bruno che ha questa attività metabolica, ma non dimentichiamo anche il rilievo dell'attività fisica. Grazie Pierluigi De Pascalis che torna con tutti noi martedì prossimo, a te una buona giornata e una buona settimana. Una buona settimana, alla prossima.